salve a tutti allora oggi siamo in compagnia di una persona speciale per affrontare un tema altrettanto speciale allora presentiamola è valentina valentina ferranti che è un'antropologa è un'autrice e ha scritto numerosi volumi ma si occupa anche di divulgazione scientifica dal momento che collabora con una vasta serie di testate giornalistiche trattando proprio temi che riguardano in senso ampio l'antropologia ma poi lei è una specialista soprattutto di temi che riguardano il mito cose attuali quindi non solo l'arcaico ma anche la contemporaneità più contemporanea quindi i temi che sono connessi attualissimi alla distopia e più appunto si occupa di di muoversi tra questo doppio binario tra l'antico e il moderno e vedere quindi come elementi antichi arcaici sopravvivano o non sopravvivano nella nostra modernità allora perché abbiamo voluto interpellare valentina perché valentina si è occupata molto recentemente di una cosa secondo me molto interessante molto affascinante nel senso che qualche giorno fa a las vegas amazon ha organizzato per l'edizione duemila e ventidue eh questo grande summit che si chiama mars eh che fa sì che vengano eh esposte quelle che sono le nuove tecnologie digitali nell'ambito della domotica quindi del modo attraverso cui quindi la tecnologia eh digitale entra sempre di più e sempre più in maniera capillare nella nostra vita quotidiana ma soprattutto nella nostra domos quindi nella nostra vita domestica presentando quindi le ultime novità e di questo se ne è occupato appunto il vice direttore senior di amazon Alexa che è Rohan Prasad che già il nome è tutto un programma tant'è vero che Prasad in sanscrito significa appunto misericordia quindi vedremo in che modo questo signor misericordia ha presentato degli elementi eh nuovi di questa tecnologia che riguardano in primo luogo un'evoluzione del sistema Alexa che molti di voi già conoscono è questo sistema che quindi automi automatizza e rende in maniera più agevole una serie di di rapporti tra noi la tecnologia domestica in casa e noi e i frighi noi e le televisioni e quant'altro ma cosa bien più inquietante perché su questo che noi vogliamo ovviamente l'opinione e conoscere da da Valentina di che si tratta un dispositivo molto speciale che in un qualche modo permetterebbe a noi esseri umani di entrare in contatto col mondo dei defunti niente che abbia a che fare con lo spiritismo così come lo conosciamo ma comunque una modalità secondo me molto subdola eh e poi anche su questo ovviamente Valentina dirà la sua che permetterebbe a noi umani e soprattutto questa è una tecnologia che riguarda sembrerebbe i bambini permetterebbe a questi bambini di entrare in contatto con la voce dei propri defunti lascio quindi la parola a Valentina che ringraziamo ovviamente per aver accettato il nostro invito e e ecco a te quindi spieghi bene cosa è questo Mars come funziona cosa ha proposto il signor Prasad Misericordia e quali sono quindi queste queste inquietanti o non tanto inquietanti nuove proposte che a breve entreranno in commercio se non lo hanno già fatto. Grazie Martino dell'invito onorata e della bellissima e generosa presentazione. Allora casualmente eh girando e cercando un po' di video su eh la domotica in in YouTube eh mi sono imbattuta in una recentissima riunio un meeting che c'è stato eh a Las Vegas la città non luogo per eccellenza no? Poiché è la città del mordi e fuggi eh la città sempre per citare un antropologo no? Il non luogo eh una città a mordi e fuggi una città del gioco d'azzardo la città del mh della velocità del sentire del fare quindi dietro c'è una eh un un nuovo mito anche lì da analizzare quindi è molto curioso che questa riunione si sia fatta a Las Vegas e si è tenuta anche anche dell'effimero direi quindi è molto bello che la la tecnologia che dovrebbe fondare il nostro mondo futuro viene viene appunto sviluppata e presentata nel luogo per eccellenza del dell'effimero scusa non volevo del non radicamento della fluidità no? Del mordi e fuggi no? Dove non ci sono radici no? Il liquido assoluto. Il liquido assoluto anche oltre il liquido diciamo per noi siamo oltre il liquido quindi proprio alla Sveca si è tenuta questa questa riunione di tutti i maggiori esperti di robotica di nuove tecnologie spaziali di domotica eh il ventun giugno e il ventiquattro giugno scorso quindi mi sono imbattuta in questo video siamo ovviamente nel eh duemila e ventidue quindi recentissimo eh e sono rimasta letteralmente eh non stupita però comunque eh totalmente rapita da questo video perché eh non credevo si potesse arrivare a tanto nonostante stiamo vedendo delle cose straordinarie eh in senso negativo però questa ha veramente eh mi ha veramente lasciato mh incerta sul nostro futuro e su tutto quello che potrebbe accadere e siamo alla più evidente deriva transumana e questa è la dimostrazione. Quali sono quindi nello nello specifico questo signora Roan Prasad cosa ha presentato? perché parlavamo se non sbaglio di due elementi che sono quelli più importanti questa evoluzione di una sorta di robottino domestico che adesso ha delle degli accorgimenti che lo rendono ancora più performativo e ci dirai come e poi il lato ovviamente inquietante perché quello noi su quello noi vogliamo puntare ti vogliamo carpire informazioni eh cosa è questo sistema appunto che permetterebbe di parlare con i defunti? esatto allora Prasad che è il vice presidente senior e responsabile scientifico di Alexa e Amazon nella seconda giornata del meeting ha presentato eh nuovi avanzamenti del dispositivo di intelligenza artificiale Alexa. Alexa più o meno sappiamo tutti cos'è perché in molti lo hanno invitato ad entrare malauguratamente nelle loro case. Alexa è un dispositivo che ci ricorda cosa dobbiamo comprare per la spesa se abbiamo chiuso bene il frigo se dobbiamo eh tirare giù le serrande eccetera 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 fin qui grande punto interrogativo a cosa serve nel senso che ehm l'uomo è sempre più pigro l'uomo è sempre più eh anestetizzato l'uomo deve sempre fare meno sforzi e delegare a una macchina anche i doveri domestici o quotidiani e qui lasciamolo da una parte perché poi lo riprendiamo questo aspetto ma l'aspetto inquietante è che gli avanzamenti di Alexa eh sono mh surreali ma surreali forse non è il termine giusto io direi veramente inquietanti. Prasad con grande maestria perché poi questi signori parlano molto bene sul palco perché apprendono quella che è la comunicazione efficace quindi movimento del corpo e parole chiave e sono quasi una forma di ipnotismo attenzione perché questo è una forma di ipnotismo per cui il pubblico ascolta e chi guarda i video entra in uno stato d'animo differente secondo me anche questo possiamo comunque analizzarlo anche perché anche tu Martino di comunicazione corporea e sappiamo quanto questi padroni del sistema eh utilizzino delle tecniche mh di manipolazione eh visiva eh corporea per cui questa comunicazione efficace è inevitabile se uno non è allertato o se non sta attento. Quindi la prima cosa che ha notato è questa splendida comunicazione corporea questo tono di voce modulato alla perfezione per attirare l'attenzione e soprattutto ha notato un cambiamento di voce un cambiamento di modalità corporea quando Prasad ha iniziato ad affermare che Alexa avrebbe aiutato i nostri ricordi e che Alexa è sempre più avanti come ragionamento vicino ai ragionamenti degli esseri umani. Attenzione arriviamo al punto chiave. Eh inizia Prasad a raccontare di come la pandemia e qui c'è sempre un filo conduttore no? Perché negli ultimi tre anni c'è stato il declino totale aiutato appunto da questa ehm epidemia mh e di come questa pandemia ci abbia lasciato dei vuoti emotivi perché abbiamo perso molte persone. Continua ad ascoltare. Che succede sempre eh comunque che succede sempre. Abbiamo sempre perduto persone ma va bene mettiamoci l'accento che la pandemia sembra che è il primo evento in cui si perdano persone ma fa parte di una retorica che appunto eh mi insegni tu è già ben collaudata da due anni eh già ben collaudata da questa parte. Esattamente eh dicendo questo con grande rammarico quindi questo tono di voce che viene modificato ad arte eh fa partire un video in questo in questo palco meraviglioso e si vede un bambino che parla all'aria all'edere no? E dice mh nonna mi puoi finire di raccontare la favola del mago di Oz? Ed una voce che è la voce della nonna del bambino inizia a raccontare a questo bambino la favola mentre il bambino è sul letto e sfoglia un libro. Il filmato finisce e Prasad annuncia che Alexa sta campionando e ha campionato le voci dei cari estinti dei morti. Per fare in modo che il ricordo delle persone scomparse non si perda del tutto. Attraverso un semplicissimo campionamento spiega che può durare anche pochi secondi Alexa sarà in grado non più di parlare con la sua voce ma con la voce delle persone a noi care che non ci sono più. Ok quindi quello che tu dici significa se ho ben capito che basta avere anche un frammento della voce diciamo di una nonna di questo ipotetico bambino che vorrebbe farsi leggere nuovamente il libro di Oz eh bastano pochi frammenti Alexa lo campiona lo rielabora quindi legge il timbro la cadenza eh e da quel momento in poi elabora una nuova voce impostata sulla voce della nonna quando ancora vivente nonna che sappiamo appunto non c'è più in maniera tale quindi che Alexa o che il bambino identifica Alexa con la nonna defunta. È così? Sì. Questa voce comparirà attraverso il dispositivo Alexa ma sarà proprio la perfetta voce della donna della nonna rimodulata eh per una quantità di vocaboli o di dialogo eh larghissimo. Questa cosa viene presentata da Prasad come una risorsa inevitabile e ce lo chiedono i nostri clienti. Questa è la frase ce lo chiedono è una frase che noi sentiamo negli ultimi due tre anni eh sembra quasi un mantra ce lo chiedono ce lo chiedono i nostri clienti appunto quindi per i nostri clienti noi doniamo quest'altra strabiliante modalità di comunicazione con il mondo dei defunti. Perfetto allora ti interrompo un attimo perché mi sembra troppo bello quello che stai dicendo è troppo interessante allora io taglierei corto nel senso eh riassumendo e prendo tutte le i benefici di inventario di antropologo lo posso dire eh e tu lo puoi dire con altrettanta titolazione come si dice ehm e autorevolezza tra di quanto è un sistema eh tecnologico moderno in un qualche modo per parlare con i morti e per permettere che ai morti quindi coloro che sono nell'aldilà possano comunicare con noi in maniera molto moderna quindi molto materialistica non c'è più questa cosa che è sempre esistita ogni civiltà ha sempre avuto il bisogno eh di rimanere in contatto con coloro che se ne sono andati però ovviamente viene fatto sempre in una dimensione totalmente diversa quindi sacrale sacralizzata in cui eh il defunto eh rimane appunto nell'aldilà una un'entità che mantiene questo cordone invisibile con i suoi discendenti ma spesso viene fatto per eh tutelare proteggere i discendenti eh per garantire la prosperità se si se si tratta ad esempio di un attributo dove gli antenati hanno questo scopo di mantenere il contatto con i viventi quindi tutto un traslato diverso questa dimensione sacrale eh intima e discreta viene totalmente fatta fatta fuori in un colpo solo il defunto che non è più presente perché ovviamente è un è un dispositivo tecnologico che fa questo per il defunto noi del vero defunto in poche parole ce ne freghiamo questo direbbe Prasada noi ci interessa solo che rimanga un appendice tecnologica che permetta al bambino in un cortocircuito direi molto anaerobico nel senso non non si respira il povero bambino si fa raccontare le storie da una voce artificiale che è quella di sua nonna ma eh organizzata in modo tale proprio da da un dispositivo tecnologico quindi è un parlare con i morti quindi di antica memoria ma tutto rivisitato in una in un'atmosfera devo dire per me eh se non altro opprimente poi eh secondo me con con delle venature molto molto subdole tu come la vedi come la pensi? Io credo che questa cosa sia frutto del nostro tempo totalmente desacralizzato no? E secolarizzato dove la tradizione che era un tempo la tradizione degli antenati quindi comunque questo filo come dici tu che rimaneva ed era sano perché c'erano dei rituali di separazione in tutte le culture ci sono rituali di separazione tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti che sono proprio funzionali a botte a una comunicazione trascendente con altri mondi solamente in determinati momenti rituali ricordiamo che il rito è un cerchio in è una è una zona protetta dove certe cose possono essere fatte eh e questa dimensione del rito che veniva eh scelto ed era chiuso era un ortus conclusus viene totalmente devastato da questa voce dei morti che riecheggia all'interno di una casa e a cui si può chiedere anche nonna che cosa faccio di spesa al caro defunto quindi questo coincide proprio con questa desacralizzazione che è preoccupante c'è anche un'altra dimensione preoccupante c'è proprio il video del bambino e lì c'è un dolo estremo perché perché eh la nostra cultura la nostra eh cultura secolarizzata e desacralizzata annullato annullato totalmente lo spazio del dolore che è invece un apprendimento sacro soprattutto per i bambini cioè il bambino deve patire un dolore che poi diventerà trasformativo e lo aiuterà ad evolvere e a crescere come uomo o la bambina come donna quindi eradicare questa eh questo fattore fondamentale è un altro assassino che si fa a questa umanità in evoluzione in crescita cioè la dimensione del dolore è una dimensione sacra allucinante ma interessantissimo quello che dici io mi permetto di usarlo in parte per arrampicarmi su su un pensiero cioè tu dici benissimo eh il rapporto con i morti eh in una dimensione tradizionale eh religiosa funziona perché si sa benissimo che c'è un al di qua e un al di là che sono due dici dimensioni separate e riti funebri e quant'altro servono proprio a sancire questa separazione e poi ogni tanto questi due monti possono toccarsi tra di loro gli antichi romani c'avevano il rituale del mundus dove appunto una volta all'anno i morti potevano risalire dai regni inferi quindi sotterranei e per qualche giorno all'anno vivere convivere assieme ai viventi ma poi diciamo il mundus veniva richiuso quindi che sia lecita che sia possibile questa comunicazione eh avviene ed è normale che sia tutte le civiltà lo fanno io mi ricordo anche i rituali ufficiati di Malaya dei miei sciamani sono sempre questo chiudere separare i vivi e morti perché i vivi non sono i i morti e i morti non sono i vivi ma quando serve in certe occasioni riunire questi due mondi che poi questo traslato per questo abbiamo deciso di dare il titolo a questa puntata appunto lo spiritismo eh tecnologico eh diciamo i residui di quest'attitudine sono poi quelli che troviamo nel nel cosiddetto spiritismo dove lì è l'uomo che cerca attraverso delle tecniche appropriate di ricreare un un legame di dialogo con i defunti vengono evocati i defunti scendono durante l'evocazione con i famosi eh tavolini a tre zampe tutte le cose che noi sappiamo i cerchi magici e quant'altro per far sì che in un qualche modo e questo è il residuo secondo me di queste antiche eh nobili concezioni delle società arcaiche di cui parlavamo eh possiamo ancora dialogare con i morti ma in una seduta spiritica questo è importante chi fa l'evocazione presenti lo sanno benissimo che i vivi sono i vivi e morti sono i morti invece da come lo stai dicendo tu sembrerebbe che si viene creato una confusione per cui questa voce che rimane come traccia di un defunto alla fin fine diventa una presenza infestante cioè tu non te ne liberi più del morto ma non perché ti vuoi liberare del morto ma perché proprio come hai detto tu è bene che vivi e morti i vivi abitano al regno dei vivi i morti da che esiste il mondo si dice sono destinati al regno dei morti e tutti i riti funebri servono a fare in modo che i morti vengano accompagnati o condotti verso questa loro dimora altraterreni quindi secondo me è inquietantissimo noi ci stiamo auto infestando senza poi considerare l'aspetto sottile non è questa la sede ma voglio dire una voce di un defunto conserva l'impronta in un qualche modo eperica se vuoi del defunto stesso quindi il bambino lo lasci circondato da questa presenza infestante della nonno del nonno defunto tecnologizzato questa è una cosa e l'altra cosa e te la rilancio perché interessantissimo quello che dicevi rispetto al al dolore il dolore necessario perché indica che c'è stata una separazione e se non senti la ferita non puoi manco poi far cicatrizzare questa ferita c'è il rischio che se non senti la ferita c'è una ferita invisibile che sembra che non faccia male ma male fa in profondità e non si rimargina mai quindi ancora una volta il dolore è quell'elemento che ci permette di elaborare un lutto ma in questa maniera il lutto non c'è cioè il morto il defunto scompare ma non scompare appare ma non lo vedi realmente quindi è un'impossibilità è questa cosa che che la nostra società proprio ha come groppo direi io con una declinazione bassa del termine alla gola che è incapace di ammettere la morte in quanto tale come esperienza e di far sì che una volta che ha messo ammesso la morte come evento reale e ineluttabile far sì di elaborare quegli strumenti che permettono alla morte di assorbirla elaborarla incamerarla che è tutto quello che normalmente viene fatto nell'ambito del lutto per questo ci sono milioni di tecniche proprio arcaiche per l'elaborazione del lutto quindi mi sembra di capire come invece di separarli noi ce li stiamo riversando dentro ma in una maniera totalmente totalmente inquinante guarda c'è un termine martino mentre tu parlare che mi è venuto in mente l'indefinibilità che è pericolosissima ma sai perché perché se è meglio di me che in tutte le culture umane si opera per separazioni il caos è il caos l'ordine è l'ordine c'è la cosmicizzazione e il mondo caotico questi due mondi proprio quando tutto fu creato furono saggiamente separati dalle divinità se non c'è separazione non c'è vita se non c'è ordine c'è indefinibilità quindi questo è il grande problema in un mondo che confonde e manipola la vita perché noi ci stiamo facendo manipolare la vita è manipolabile anche la morte e se noi confondiamo sullo stesso piano vita e morte la civiltà umana è totalmente finita l'altra questione che tu ponevi è quella del dolore il dolore è appunto come dicevamo prima trasformativo cioè il dolore è addestramento alla vita ma alla vita vera non alla vita artificiale sappiamo come in tutte le culture ci sono dei rituali che stanciscono l'importanza del dolore il rituale di passaggio per quanto riguarda gli adolescenti le iniziazioni e tutte passano attraverso un dolore che anche fisico e sappiamo come anche una mancanza di una persona cara proprio che un dolore un dolore fisico che deve essere attraversato e dobbiamo vivere questa in definizione di questa voce del caro estinto del caro defunto eh ci rende e ci fa cascare in un vortice di indefinibilità che ci renderà eh nevrotici che ci renderà pazzi più andremo avanti e soprattutto la cosa ripeto drammatica è che si in questo video Prasad ha usato un bambino è scandaloso come come tutti i buoni dittatori si circondano sempre di bambini e tutti i dittatori sono definibili come tali quando c'è troppa prossimità tra i potenti e e gli innocenti c'è qualcosa che non funziona tranne casi eh molto molto rari come appunto quello di Gesù Cristo ma appunto è l'eccezione che che conferma la regola diciamo così. Ricordiamoci Martino anche un'altra cosa scusami se mi interrompo che tutte queste queste nuove tecnologie dell'intelligenza dell'intelligenza artificiale dell'intelligenza artificiale dell'atomotica e quant'altro vengono presentate dai signori dai padroni del sistema dai padroni del pensiero unico come dei eh facilitatori cioè facilitiamo la vita quindi vengono servite su un piatto d'argento da questi lupi eh travestiti da agnelli eh e ci può ci dicono che questa è comodità è tecnologia che facilita le nostre vite mentre in realtà sappiamo che è un falso e che comunque questo è la grande deriva che stiamo vivendo ehm che ci impone anche un'altra questione ci impone la tabuizzazione del corpo e soprattutto quella dei sentimenti cioè noi non sentiamo più ci vogliono portare a non avere più cuore e animo e quindi dolore sudore ma anche fatica ovvio ma mi sembra di tutto questo è un grande invito sistematico globale di massa a non non tanto alla comunità ma alla pigrizia nel senso che dire che è già un valore che dicendo Alexa accendi la luce e questo viene passato come valore significa che io mi sto amputando da una mia potenzialità che non è che mi fa male se mi alzo dal divano e il televisore anzi poi ci sono i telecomandi da 50 anni quindi manco quello però ecco l'interruttore della luce magari mi alzo e me l'accendo da solo la luce quindi è un invito all'impigrimento ma che vuol dire semplicemente se all'uomo gli togli questo elemento vitale e fondamentale di cui tu parli che è legato alla fatica al sudore al sacrificio che non è niente di celebrazione del del dello sforzo non è quello ma se gli togli questo elemento animale e selvatico e lo addomestichi sempre di più e gli dai strumenti per un auto addomesticamento sistematico e lo dice la parola stesso lo hai addomesticato cioè appunto la domotica addomestica cioè una una cosa che praticamente nel caso in cui debba elaborare delle reazioni non sa più manco quali sono elaborazioni da tirar fuori le reazioni da tirar fuori né tantomeno all'energia per farlo quindi questa lettura secondo me è interessantissima perché appunto a parte l'orrore tutto quello che abbiamo detto sulla sulla desacralizzazione ma c'è per di più questo invito alla alla amebizzazione cioè noi dobbiamo diventare degli organismi semplicemente seduti poi non so anche le seggio le cose faranno in futuro per noi ma vedremo insomma sono curiosa sicuramente tra l'altro c'è il concetto qua di comodità perché tutto viene passato come comodo semplice eh appunto per facilitare la vita ma la comodità ricordiamoci mettiamoci mettiamocelo in testa è sinonimo di mediocrità. Siamo un po' reazionaria eh però dicendo questo guarda mi dispiace guarda lì adesso proprio eh hai fatto una caluta di stile ovviamente affettuosamente no no è per dire ovvio è assolutamente ma siamo in un regime di massificazione quindi il mediocre è il valore positivo colui che si distingue è semplicemente un elemento da neutralizzare perché è la è lo scarto è lo scarto che 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 evade la norma quindi in quanto scarto viene definito come qualcosa da eliminare e invece è la massa è l'anonimato è l'indefinito il caos come dicevi tu questo caos questo liquido amniotico senza più avere però germi vitali all'interno un po' la la regola la regola che che sta dettando leggi al mondo ti voglio domandare un'ultima cosa quando parlavi dei bambini perché a me sai la tecnologia funziona molto sull'istantaneità tu l'hai detto molto bene c'è tutta una prossemica c'è tutta un'arte del del presentare del agire corporeo che aiuta a far sì che le informazioni passino un tono della voce un certo timbro si lavora sull'irrazionale quindi si fanno muovere dei meccanismi che toccano la dimensione non razionale della nostra mente ma quella totalmente non razionale e ti dico questo perché mi sembra di capire che queste cose qua vada a toccare anche altri aspetti cioè questo mondo è un mondo che si va sempre più sull'istantaneità non c'è una prospettiva dietro ti do l'input tu rispondi e io invece me la faccio la domanda penso a questo bambino che sta ancora lì con il libro di odds e la nonna che gli racconta la storia e mi domando uno questo bambino non saprà mai se la nonna perché stiamo parlando di epoca dell'inculturazione quindi bambini piccoli apprendono gli strumenti per capire il mondo che hanno attorno e l'universo quindi non sa più se non saprà mai se la nonna è andata o non è andata identificherà la nonna con una voce tecnologica non saprà da grande che differenza c'è effettivamente tra l'essere e il rimanere e l'andarsene definitivamente quindi diciamo gli vengono date tutta una serie di brutte informazioni ma non brutte in senso etico proprio che non l'aiuteranno a capire il senso della vita perché comunque da questo mondo tutti ce ne dovremmo andare ed è bene capirlo alla svelta per capire che parte della vita anzi questo sapere questa consapevolezza da valore e ricchezza alla vita ma sempre in un panorama futuro numero due dimmi tu come la vedi valentina ma questo mondo si riempirà di soggetti sempre più infestanti cioè una volta è la nonna poi il fratellino piccolo gli verrà data una versione più aggiornata di alexa per cui parlerà forse anche dell'anziano zio cioè praticamente la casa si costella di fantasmi virtuali è così guarda temo di sì c'è anche un altro aspetto interessante sempre della domotica no perché sempre questo personaggio Casade ha presentato anche non è che ha presentato ha parlato ancora una volta di un altro loro loro invenzione che è il robottino Astra è interessante perché parliamo di bambini di affettività e di prima tu parlare di mondo selvaggio ha parlato di questo robottino Astra che dice Casade inizia a muoversi per casa come un animale domestico e lui serve appunto come sempre a a velocizzare le forme di comunicazione all'interno della casa perché gira all'interno della casa e Casade si muove come un animale domestico questa cosa mi ha fatto molto pensare innanzitutto perché è uscito di recente un articolo che parlava di come è stato accertato il primo caso di trasmissione della covid-19 tra gatto e essere umano ah sì l'avevo sentito certo esatto non è un caso nulla di quello che noi stiamo vivendo tutto quello che sentiamo va analizzato nulla nulla è una casualità questa frase si muove come un animale domestico e ci come dire ci porta ad essere affettuosi con lui cosa vuol dire vuol dire che questa cosa è già stata profetizzata anche la questione dell'affettività tra l'essere umano i loro compagni gli animali gli animali domestici ok viene sporcata viene annullata è un principio ma questa cosa probabilmente poi prenderà delle dimensioni ancor più preoccupanti perché dico questo dico questo perché c'è una profezia secondo me che fa Philip Dick nel libro ma gli androdi sognano pecore elettriche in cui gli esseri umani che sono rimasti sulla terra sognano di possedere un animale domestico reale mentre sono tutti abilmente robotomizzati quindi facciamo attenzione a tutto quello che dicono questi padroni del sistema e a tutto quello che fanno e bisogna stare molto attenti un futuro quindi già preparano il terreno dici tu per un futuro dove gli animali domestici che già ci stanno dicendo guarda che sono anche degli elementi che possono portare dei contagi vengono etromessi e noi avremo sempre più cagnolini robotizzati in casa che non trasmettono virus e malattie non trasmettono virus e malattie però cosa fanno di bello? ti osservano e ti spiano dalla sera alla mattina e anche questo secondo me ultimissima domanda ma vorrei conoscere la tua opinione al riguardo da dove viene tutto questo gusto del farsi osservare? perché noi stiamo accettando come società che è normale che c'è un qualcosa che ci osservi e sappiamo, oramai lo sappiamo, che tutto ciò, qualsiasi strumento tecnologico che ci sta osservando in realtà sta semplicemente catturando e poi, susseguentemente, elaborando dati su di noi quindi com'è possibile che abbiamo questo piacere di esibirci e di lasciare che il mondo esterno con una telecamera ci osservi? è una declinazione 2.0 dell'isola dei famosi o dell'epoca del grande fratello senza però sapere più chi ci guarda dall'altra parte? cosa è secondo te questo gusto di esporsi e di lasciarsi invadere permanentemente da un occhio o più occhi che ci osservano? ci giudicano e prendono dati su di noi? fa sempre parte del concetto di società che poi diviene cultura liquida, no? per cui io non sono più io e non sono più capace di guardarmi all'interno ma proprio perché non agisco su di me con dei rituali, dei cammini spirituali quindi la... scusami un attimo la desacralizzazione eccola, lo sapevamo che sarebbe arrivata parlato di animali domestici che non ci saranno più è iniziato a miagolare la puoi far vedere perché vediamo che sta carezzando ma non sappiamo ok, allora la presentiamo pubblicamente questa io la conoscevo da tempo è Pippi, quindi l'attenzionatissima gatta della nostra amica ovviamente di Valentina e la quale ovviamente io capisco che si sia chiamata in causa e dice qui tu mi vuoi esportiare come un robottino guarda invece io faccio ancora l'età e ti dico che esisto e sono molto viva nonostante la tarda età a vent'anni quindi alla faccia non la campionerai comunque lei, mi raccomando assolutamente no li rispettiamo veramente come miagolì di una gatta con una sua storia non da declinare in formule tecnologiche da riascoltare quindi Martino dicevo c'è questo problema di non guardarsi più dentro di non riuscire a stare anche in forme tra virgolette di meditazione con se stessi di riconoscersi, di viversi di non dover sempre rapportare noi stessi allo sguardo dell'altro che poi non è più lo sguardo dell'altro con cui interagiamo da un punto di vista corpo corpo che è assolutamente salutare ma diviene una macchina quando abbiamo difficoltà a rapportarci con noi stessi e quando abbiamo difficoltà a rapportarci con l'altro da noi che è di fronte a noi che è carne, cuore, ossa proprio perché non abbiamo fatto questo lavoro sul rapportarci con noi stessi e avere paura di noi stessi incontrare il guardiano della soglia non abbiamo attraversato dei mondi mettiamola così non riusciamo più a rapportarci con l'altro e ci rapportiamo con qualcosa di totalmente virtuale che non c'è e che quindi non ci crea appunto quel dolore non ci crea quella caduta tra virgolette iniziatica necessaria per ogni percorso umano anche se uno non fa l'alchimista quindi per tutti i percorsi umani è necessaria quella caduta e quindi non riusciamo più a guardare non riusciamo più a girare lo sguardo e ci lasciamo così tanto guardare quindi sta diventando un po' l'epilogo è proprio questo non sappiamo guardare ma accettiamo di essere osservati in maniera penso che permanente poco importa se è un robottino poco importa se è un'Alexa che nelle sue modalità più recenti diventa appunto un defunto parlante in casa con cui senza fare sedute spiritiche lasciamo che nostro figlio lietamente ci conversi in questa maniera naif di un defunto in casa che racconta storia con una grande cosa ed è veramente l'ultima poi non ti voglio più fare degli ingressi questa cosa dicevi tu i clienti ce lo domandano lo chiedono i clienti ce lo chiedono c'è una delega permanente oramai un genitore non sa uno più spiegare in maniera ordinata nel linguaggio e nella modalità che un bambino lo possa capire che la nonna X non c'è più perché non c'è più non c'è più quindi spiegare la morte a un bambino non lo sappiamo fare quindi lo evitiamo ma per di più deleghiamo di prendere noi come genitori il testimone del nonno che non c'è più non c'è problema se lo faceva la nonna lo prende adesso il papà il libro di Oz e con una voce diversa ti aiuta a sentire la stessa continuità che sentivi con la nonna la senti adesso col papà quindi delegare in questa incapacità oramai di comunicare e di effondere di donare qualcosa di profondo che è questa continuità tra noi e il nostro passato umano vitale, ancestrale per cui tutto oramai viene delegato in guanti chirurgici a questa ancora più chirurgica sterile e algida veramente direi frigida frigida sotto tutti i punti di vista tecnologie esatto sono totalmente d'accordo con te e se mi permetti vorrei concludere e chiudere con con un testo che è un testo di riferimento perché non si può non nominare che è che è il nuovo mondo di Aldous Axley dove prima parlavi di selvaggio io invito tutti a rimanere selvaggi nel vero senso della parola in tutte le declinazioni possibili immaginabili spendibili e realizzabili rimaniamo selvaggi e c'è una frase appunto molto interessante che dice John il selvaggio appunto il nuovo mondo che riassuma un po' quello che stiamo dicendo la vado a leggere perché può essere veramente interessante un libro del mila e novecento trentadue no? ma Arsley aveva una lente di ingrandimento era informato di qualcosa non possiamo saperlo questa è la frase che dice il selvaggio quando poi vogliono come dire quando rifiuta quel mondo quel mondo robotomizzato quel mondo che è poi appunto il nuovo mondo che descrive perfettamente Axley e verso cui noi purtroppo ci stiamo dirigendo come umanità il selvaggio si rifiuta e dice queste parole ma io non ne voglio di comodità io voglio Dio voglio la poesia voglio il pericolo reale voglio la libertà voglio la bontà voglio il peccato e il suo interlocutore gli domanda allora vuoi il diritto di essere infelice e lui risponde sì voglio anche il diritto di essere infelice wow grazie di questa lettura che è illuminante dovremmo mandare questo stralcio di testo al signor Prasad barra misericordia vedere anche lui cosa ne pensa e cosa avrebbe da rispondere al riguardo guarda non aggiungiamo altro perché veramente con questa parte finale mi sembra che il cerchio si è chiuso in maniera molto bella con un bel crescendo di belle informazioni quindi grazie infinite Valentina di questa di questo bello scambio che abbiamo potuto fare ringraziamo anche la Pippi di aver fatto la sua piccola apparizione testimoniando che ancora gli animaletti domestici vogliono rimanere nelle nostre case e assolutamente non vogliono essere sostituiti da degli arnesi meccanici fittizi quindi grazie ancora nella speranza che sicuramente lo sarà che avremo occasione di scambiare su altrettanto interessanti misteriosi e inquietanti argomenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti